Buongiorno, buonasera, buonanotte. Come va? Come stai? Come andiamo, signore e signore? Siamo qui in attesa di intrattenere. No, perché? Ma perché siamo così. Siamo pazzo, matto, lunatico. Dobbiamo dire che io sono il brutto. Tante grazie di essere venuto. Stasera, che è la notte di sabato, domani sarà la domenica, stasera stiamo leggendo due libri e un Taokoboom di Dragon Ball, mentre beviamo alcuni matti. Ricordatevi che Matteo è la bevanda delle persone del popolo sane, o del popolo sani, non sono sicuro. Ricordatevi che questo Parlamento è fatto con l'aiuto del traduttore di Google. Uno è Sei viaggi, uno dei libri, Sei viaggi sulla luna di Horacio Pagani e l'altro libro è La salute dei pappi di Nelson Castro. Lei possono vedere che questa notte io bevo Matteo con questa gerba che è importata del Brasil, ma devo dire che non mi piace molto. Ma salute a tutti. Bene, questo non è un video molto lungo, ma ci vediamo pronto subito. In bocca al lupo a tutti e grazie, grazie a tutti il popolo italiano.